Dolore e disperazione. La tragedia della piccola di 13 mesi ha sconvolto l'intera comunità di Pianella. Sembra che la bimba si è scivolata dalle braccia del padre, Silvio Maiano, e sia precipitata dal balcone di un resort di Charmel Shake, dove i genitori e la piccola si trovavano in vacanza. È accaduto due giorni fa. Affranto dal dolore, il papà di Silvio non se l'è sentita di rilasciare dichiarazioni. A Pianella si attende il rientro della famiglia e della Salma. Il sindaco Sandro Marinelli. Sindaco, una tragedia immane che ha sconvolto l'intera comunità. Sì, purtroppo qualche giorno fa ha iniziato a diffondersi questa voce. Abbiamo sperato fino all'ultimo che potesse essere smentita da un momento all'altro. Purtroppo, nella tarda serata di ieri, la voce è risultata confermata. Per cui, insomma, la comunità davvero non ancora riesce a capacitarsi di questa tragedia. Poi, in un momento, in una parentesi felice, in cui una famiglia si vuole ritagliare un attimo di serenità, a vivere una tragedia simile è davvero inaccettabile e poco comprensibile. Per cui siamo tutti davvero molto provati da questa notizia. Assolutamente. Ecco, io le chiedo se è venuto a conoscenza di altri particolari sulla dinamica. Pare che, insomma, la bimba di 13 mesi soltanto sia scivolata dalle braccia del padre. No, sulla dinamica ovviamente non abbiamo alcuna certezza. Le voci sono quelle. Possiamo soltanto, ovviamente, sperare che il più presto possibile la famiglia possa riunirsi e sicuramente la comunità farà sentire la sua vicinanza. Le conosce benissimo, naturalmente, i coniugi, no? Tra l'altro mi diceva poc'anzi un'impresa di pulizia. Sì, sì, la famiglia è molto nota, pianella, ben voluta, stimata, e quindi questa cosa non fa che acuire questa difficoltà di accettare e di comprendere questo evento. Sul rientro non sappiamo nulla. Complessità anche nelle operazioni di burocrazia, evidentemente. Sì, la natura di paese extracomunitario dell'Egitto non agevola sicuramente le procedure burocratiche, però sicuramente credo che le autorità italiane sul posto avranno dato tutto il supporto necessario per agevolare in ogni modo il rientro della famiglia. Sicuramente noi come amministrazione comunale siamo a disposizione e quindi faremo tutto quanto ci verrà richiesto.